si pronto parlo con activision si guardi allora siamo io e fabri siamo in duo sarebbe possibile avere una lobby di bot per un record magari a no non è possibile allora grazie comunque magari qui la richiamo un'altra volta grazie a rivederci anche andiamo a industria si andiamo al solito solito c'è pure lo sciopo polis armin sì sì mi dice che sei ancora sub perciò tutto a posto tutto a posto ti ringrazio armi grazie mille simone villa grazie per le 100 stelle grazie mille ragazzi madonna mi spara pure in aria due pompieri due top top pompieri sono ce n'è un altro italiano pure non ci credo un altro sopra industria morto ce n'era uno sotto di me da me ok ok arrivo dovrebbe essere l'ultimo è qua sotto uno in movimento ok buono 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 no impossibile italiani tutti e due benissimo in due contro due si può giocare un po più ferda con questo buio dai hanno un po esagerato bastava qualche giorno non due settimane Magari domani spengono Magari stanotte spengono tutto Spengono tutto no 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 Perché? Mi fai venire l'ansia A mezzanotte boom Durante il gunfight Bellissimo Abbiamo i soldi Sì possiamo fare la cassa Polizia Arrivo Vabbè va Ehi Marco adesso facciamo un po' di duo insieme a Fabri E poi stacchiamo un po' Stacchiamo tra un'oretta ragazzi Tra un po' Perché abbiamo sia io che lui da fare Oggi pomeriggio delle cose Delle cose da fare va bene Grazie Fabri No vabbè Ho stianzio di tomba Eh vabbè Forse è meglio così Uscio solo Andiamo super Super o questo è sì Sì o super dai su Anche se questi verde Se si iniziano a sparare Sto partendo il muretto via Buona Guarda sinistra Madonna non si vede proprio niente qua dentro Ma no ma infatti Ho un pingo manco Meno male che torniamo stasera Si può fare di giorno Eh vero 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 Infatti io ho detto Ma dove manca duo come modalità Infatti così hanno fatto Meno male Guarda guarda come è uscire da super Prendere un giro la testa Sì sì lo prendo Ok Ma che fanno questi Uno Uno Ma quale la finta mi sembra Ma poi perché come ha fatto ad arrivare la finta sotto se quello sta solo Eh infatti Quanti ping comunque ma Ma usciamo da qua dai Qua cisterna è piena C'è quello nel garage Che cosa sta facendo Non lo so Dai stavo fermo lì Nedvich È uscito Oh fuck off No Ha detto no Fuck off Meglio dire fuck off che le bestemmie dai Sì sì almeno Vabbè 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 Alleato in sorbolo Avvio scansione radar Oh Arrivano perché arrivano pure qua Tutti nella zona segura Buona Senza scudo l'altro Senza scudo Non lo vedo Morto morto La granata mi aveva detto che l'avevo scudato Ok I nemici qua Oh qua sta pieno Mi muovo di qua Perché? Perché ci fanno quelli sulle montagne? Non lo so stanno qua Non lo so Forse pingano anche loro Questi arrivano da noi sembra Sì mi sa di sì Non li vedo Sono belli 49 metri da davanti Eccolo Ok Terra Buono Ah l'altro 45 metri davanti a te Sì sì Finiti gli altri sulle colline Sulle colline anche dietro La macchina dietro di noi A terra Versagli i mercati Poco alle polveri Lo faccio la macchina Quanti sono? 2 2 Arriva io Una terra Ma che fanno? Uno se ne va e l'altro no Si è fermato Ma che fa? Sono morto Buono Io ho finito uno sulle montagne Sta arrivando la macchina dal ponte E la macchina dal ponte Che non so Ah quasi craccato Un colpo per craccato Braccato Tittato L'ha lasciato Buono 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 Forse Bisogno di colpi Cosa? AR? Sì sì ma c'ho la cassa C'è la cassa Ce la vuoi pure tu Buttata in faccia Oh no 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 Oh no E' buttato la grana Attaccato 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 Atterra 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 Sticcata Sticcata Ciccato Oracci Madò dai Oracci davvero Tornati Siamo pieni di soldi Comunque Andiamo Eh fate 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 Prenditi l'autoresse qua lo shop in mezzo alla pista Sì sì Eh sopra bianco Qua sopra bianco Arrivo Versaglio Non mi ha visto Sto andando lo shop Vai vai Vale che va Ti tiro un bombardamento Uno Dal ping E' l'uomo lì no? Sì sì Atti due lì Ma perché hanno rimesso la torretta La torretta robot Ah questo non lo so Bella domanda Qua si prendono Che prendono la cassa? Non lo so Vediamo Non prende niente Uno Daddy Franco? Uno sta E' dentro E' dentro Mi sa che è entrato Forse va sopra Va sopra? E' lì nello stanzino Fermo Ok Ok Ma chi è che mi spara? Fai mi arrivato No no Sta dietro No non lo so Non lo so Mi è arrivato Sembrava uno sparo da sinistra Da te Ma no No vabbè Eri tu Ah io sto sparando Ti sto sparando io a lui Ce l'ho craccato Andrea non c'è nessuno No vabbè vabbè Non c'è nessuno No vabbè vabbè Non c'è nessuno Vediamo questi qua Di nuovo Ma questa è una caccia al topo Ma che se è una caccia al topo Ci potremmo prendere Tu hai trofi Perché hai visto trofi No Purtroppo no Possiamo prendere pure una bella macchina Questi qua ci arrivano davanti Sì 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 Quella Andiamo Aspettando un po' Questo sparalo Attenzione Atterra uno Buona Dario ischia E Vito Davito C'è due C'è due casse Allora vengono Reshopare Uo va vi Vado a prendere Sì vai vai Uo vi E poi c'è la macchina pure là in realtà Vado a prendere la taglia Vado a prendere la taglia Vado a prendere la taglia Uo vi alleato in sorbono Abbio in attenzione radar Di fantasmi Qui vanno ad andare di taglia Eh Versaglio taglia Eh razza quelli sono Vabbè due Li pinghiamo pure eh Li pinghiamo pure quelli Ok quindi non hanno neanche fantasma Oh perché sono Sono quattro Sono quattro Sono due team Sono due team Uno vola qua Vai arrivo arrivo Vai vai tranquillo Tranquillo C'è pure un bombardamento Ma questo vola Sì dietro Ah è sceso ma qua Eh vabbè non ce la facciamo Qui c'è un bersaglio Eh non è dietro Eh prendo un'altra uva viva Vai 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 Ah è un po' di fantasma Però stanno in open Stanno qua davanti a noi però in open Dietro sta casetta credo Sì dietro la casetta Sì Sì a terra Sì a terra Oh che muoce Buono Ok per gli altri due Mi muovo di qua Facessi una cosa del genere Un pazzo Ma che arrivano là davvero No Ma sono nella casetta quadrata Tipo Sono po' spaventati quindi Sì Ma non so se sono fuori o dentro No dentro Ah uno solo No ah cazzo Mi ha detto davanti Sono morto sono morto Ah ok Che aveva trovato Buono buono Ah qua Stavo di mp5 Pensavo fosse più vicino Vici là sopra Sì sì Mi muovo di qua Ma qua c'è il trofio pure Abbiamo sempre pieni di soldi Prendo un altro guaviva Ok Allora non puscio Ah mi prendo pure un bombardamento Che c'è una torretta robotia Finghiamo niente Zero Eh beh però la sopra lì Li sentivamo Eh beh ma staranno per forza là Ma poi 75 persone siamo là Infatti Non abbiamo fatto pure Le parecchie Eh infatti Infatti sì Ok uno lo pinghiamo Là lo shop Non so se l'hai visto Se lo pinghi Due li pinghiamo Pinghiamo due qua Eh sì sì Due qua sopra Ah ok Uno solo là Che vogliamo farci? Le pinghiamo due Ora uno Eh Ma guarda Destra Potremmo pure salire Ma andiamo a destra Andiamo a destra Andiamo a destra Facciamoci questi destra Potrebbero essere qua lo shop Quali sopra ci romperanno le palle Dopo però Sì 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 Vabbè ma tanto Ma sembrano pure che stanno fightando Verso asilo Verso quella Sì mi sa di sì Vedo se pinghiamo Ok uno sulla casa Qua Ok Non so se mi ha visto Penso di no Ah no forse sì ora A terra Dario Ischia Stai passando Buona Morti Oh c'è l'autore Vedevo spari No no Ah cacchio da qua accanto Ah sopra Sopra la Questa No merda Mi ha distrutto Ma che cazzo è Ma disintregato Ma proprio mangiato Porco Giuda Ci sono quelli di sopra sicuro Ah Pazzè Bravi loro Bravi loro Bravi loro che ci hanno adattato Della Sì Minchia Che timing Ma tu pensi che erano quelli Sopra veramente Secondo me sì Perché erano tornati questi Era vito Gli avevamo già uccisi questi Ora si fa sul serio Preparati Vinci questo scontro E torni in prima linea Perdi E per te Affini Tocca a te soldato Oh lo sciacallo Eh sì sì Che pazzo Ma non è stato pure a fianco Però qua Ah pure qua C'era un botto di lenti Questa Questa qua Facciamo quello qui in lontano Facciamo Questa cosa qua Ovimento Ovimento Downtown è safe da fare La lenta Solitamente E' no che c'è la botta di sfiga Eh sì capi Perché con tante case È difficile che ti becchi Vai tu a quello vado io Va dai vado Che sto già fatto Cassi in arrivo Alla nuova zona sicura Contratto aggiornato Nuovo obiettivo identificato No non mi dire che sta là sopra Io lo sapevo Sta sopra a cosa? Da sopra è il coso dello shop Per un centimetro Ma non vorrei dire Però questo cosa Non saremmo morti O forse sarebbe stato un buon match Eh è vero minchia 14-14 60 in B Vero 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 Minchia E ci facevamo pure quelli Sì Però così ce la facciamo A fare la cassa Dove è lo shop più vicino? Lo shop più vicino a questo Padone a noi da hospital Però Sì è l'unico Ospito Io non ho scudo C'è uno scudo? Sì sì Ragazzi sono veramente euforico Attenzione Un team nemico vi insegue Faccio prendo la taglia allora Vai Gassi in avvicinamento Lancio d'equipaggiamento alleato L'obiettivo è eliminare il bersaglio taglia Vieni qua i soldi Che ti prendi l'autoressa O se vuoi prendere l'avv Non lo so No prendo Prendi fantasma? Prendo un uavv No non ho preso Ok ok No da solo Dentro dentro Non c'è un bombardamento contro questi Eh sì Vero Passo a sinistra aspetta C'è abbiamo anche nemici dietro eh Anche dietro dal tuo lato Dietro di te Savvy è entrato uno È entrato uno dentro Ok ok Dietro di te Qua l'ha lasciato la macchina l'altro Ma che so sti rumori Fuoco nemico Ah ok ok M'ha preso lui M'ha preso quello là che ha sparato Attacco in corso Ok Tutti morti tutti morti Tutti quelli sopra Aspetta sono morti Ok Colpo diretto Sì sì Quindi possiamo salire noi sopra ora Eh sì sì Dovrebbero essere morti tutti e due Sono quasi sicuro Madonna ma che è Oh ma che è Coggiuda Sistema Lo faccio pure la taglia Autorizzare ricognizione Buttato l'albero Di guadbe qua sopra A vero Quello del camion che fa Questo sta qua fermo sotto la finestra Questo dovrei Dovrei farmelo Con lui davanti Ultimo Ok quelli sopra la montagna Li vedi? Uno l'ho ucciso Ah di quelli c'ho E' a terra? Ho finito Ma che hanno Perché l'hanno Ho preso la fantasma questi Però si hanno fantasma Prima li pingavamo Ma no Non lo so Non lo so Impossibile Stanno qua da una gette broga Sì 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 Uno due Cazzo L'ho atterrato Buona buona Autoressa Bombardamento da dietro Oh shit Stai dietro Stai dietro Stai dietro Stai dietro Stai dietro Stai dietro Dovete a me? Due 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 Ah son morto Nooo Ok ok buona buona Anche l'altro sempre lì Bravissimo Tra l'esso tra l'esso tra l'esso Spostamento della zona sicura GG Buona bravissimo Mantua il bombardamento Di Bravo bravo E' inizi sopra comunisti Ah Avete seminato gli inseguitori Guarda dove Non ci dovrebbero vedere Ma infatti da dove si usciva Perché? Dal nulla Completamente Là sopra ci vedono C'è uno cecchino? O no? Non lo so Non ho visto che mirava con cecchino Ah ok 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 Non credo però Ok vabbè ma la safe Forse ci conviene Perché tanto c'ho l'angere questi Un po' di gusto Vedi là Comunque abbiamo 40 kill E mancano 40 Oh ma qual è il record italiano di duo? Non lo so Comunque è del vicino C'è Penso sia 60 Non lo so Cioè massimo Cioè potremmo pure Provarci eh Sì Vedo qua a destra Se c'è qualcosa Niente Cazzo in arrivo Andiamo andiamo Sì proviamoci Anche se odio pushare in questi schifo di palazzi Eh non lo so Anche perché avremo le vici anche a sinistra Credo Hanno restato Villaggio Uno vola Fabrice lo facciamo questo Non lo vedo Qui c'è un bersaglio Dai lo vedo Eh bravo ma com'è che hanno lo hitto con un colpo È attaccato È attaccato Sotto No Buona 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 Credo ti viene vici la forza Mi muovo Si banca Credo di sì Ma è che non l'ho colpito una volta Quello Sibile Ho sotto banca Pingo banca 38 metri Forse è lui Vai 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 Qui si Ok Sto che era lui Fatto esplode io Oh ma ho visto ping da fuori Pure da villaggio Ma questo Da che fa Arrivano altri Arrivano tanti altri Da sinistra Ok Atterra Bravo Gassi in movimento Nuova zona sicura e individuata Ok Ok Buona Prendiamoci l'autore se è tutto Si vai Occhio blu però Eh Sì infatti Era sceso quello rosso ancora Che forza Ah vero vero Uno era rosso Sopra rosso Sopra rosso A terra Lombardo Lombardo Un altro a destra Era a destra Ah ah Sempre il balcone di destra Si Un balcone di destra Finito uno Usciamo da sotto Centro Bel colpo Ok ok Allora vengo a contenere Attenzione UAV Rientro forzato Per fare rifornimento Oh Merda Sopra 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 Buona ma ci vedo Sono belli questi che si fanno ammazzare subito Sì 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 proprio Si challenge Sì capito Non è che camperano eh Capito Ti fanno perdere te C'è Voto ammazzano O vengono ammazzati Vedo nemici No non so se è quello nemico No non è un nemico Oh non mi fa pingare Non mi fa pingare Ok guarda va Che cazzo è Voto Dai dietro spero nessuno Forse TV station Forse Eh UAV Nemico in volo Perché prima si sparavano TV station E anche dalle colline a sinistra si sparavano A TV station Sopra TV station proprio sta uno Nemico Una si è gettato Eh minchia oh Vogliamo pusciare loro? Sì 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 Spero si devono gettare occhio eh Eh Non vieni sopra E la SIF sta chiudendo 20 secondi Cacchio cacchio Si ci alleneranno a tre Chi è che li spara? Tu o loro? No un altro team Ok ok Una terra C'è un altro Si autoressava L'altro è un po' più avanti No è morto fuori 6 L'altro è un po' più avanti mi sa eh Ah l'ho ucciso l'ho ucciso Era lui No mi sa che un altro Un altro che non hai visto Un altro che non hai visto Sì mi sembrava Sta scappando là dietro la roccia Vado E già sta là Già sta là dietro? Ah sì sì Allora vedo Mi c'ha legge A terra Lo puscio C'è un altro forse Ok due 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 sottoponte Due sottoponte Hai buttato bombarda Una terra A terra l'altro Finisco Buona buona mano Erano loro Quelli che ci hanno fatto prima Non vedo più nessuno bro Ok ok Ora giochiamocela per vincere Ti vuoi mettere dietro il muretto? Sì sì Vengo da te Cassi in arrivo Sei sicuro Nemici là Ma non li vedo A sinistra pure Ci stanno fai dando la sulla sinistra Ma casi so kill Bell Vogliamo push'a Non lo so Ho finito i colpi Tieni 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 Ce lo io ce l'ho Ma possiamo Possiamo C'abbiamo nemici a destra Da mancate a sinistra Da destra Usa l'antenna che è bella bella dice lo stesso perché uno sta giallato una facciata sopra ci diciamo ciri e zitta ok ok te lo faccio un altro sempre dove sta il bombardamento è one shotissimo dove cacchio stanno questi fa stanno in mezzo a qualche merda tiro a cazzo il bombardamento attenzione bombardamento di precisione alleato ora di morire a minchia ma questi staranno oh mio dio ma che faceva uno l'altro l'altro c'è spuglio non lo vedo ma scudo 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 ho finito i colpi bravo ma qual è il record italiano di doppio non lo so non lo so abbiamo fatto 28-29 è questo il record mi sa che è il record ragazzi è il record per forza sono da roba kill raga ma che partita da ma perché erano due nel cespuglio li sono passato accanto era era 46 record 64 mondiale hanno detto ma ma e andiamo signori che game 57 kill hanno fatto ma se non fossimo morti la fabri la sarebbe stato tanto ma hanno fatto 57 57 kill anche se poi l'hospital abbiamo trovato un sacco di gente non so se fossimo è vero cioè in realtà capito siamo usciti dal gula comunque con due chili più cioè non è che esatto 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 ci sta minchia che partita ragazzi dj dj che partita ragazzi che partita ragazzi